ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi parleremo di incisione laser come avete visto dalla miniatura del video e dal titolo parleremo della ortur laser master 2 pro si tratta di un incisore laser con un'area di stampa davvero grande queste me le inviate direttamente all'azienda per farvela conoscere quindi guardate giù nel link per vedere i vari sconti e eventuali omaggi che dovrebbero esserci in questo periodo io sono già nel mondo dell'incisione laser da un paio di anni infatti ho pubblicato alcune immagini con alcune decisioni che ho realizzato in questo periodo però sono incisioni piccola perché questi incisori oltre ad essere un po lenti e poco potenti hanno un'area di stampa davvero limitata addirittura avevo quello a forma di cubo che permetteva si di stampare ovunque però era davvero limitato 7 8 centimetri di aria di stampa poi invece abbiamo più di 40 centimetri di aria quindi un incisore laser con 20 watt di potenza diciamo che le cose si sono stravolte positivamente è un incisore aggiornato essendo l'evoluzione del laser master 2 ha delle funzioni che riguardano la sicurezza delle funzioni automatiche che riguardano il funzionamento più ovviamente delle prestazioni maggiori per quanto riguarda la struttura eccetera ma adesso facciamo un unboxing mentre vado togliendo le cose dalla scatola con una voce fuori campo vi dirò quali sono le novità che riguardano questo incisore poi lo vedremo all'opera e vedremo la sua qualità di incisione cosa viene da dotazione eccetera iniziamo all'interno della confezione quindi troveremo alcuni certificati riguardanti la qualità del laser e la struttura in generale il manuale di istruzioni è un foglio su cui è riportato un accessorio acquistabile come optional che ci permette di sollevare ed abbassare il laser ruotando un pomello sulla parte alta poi i componenti della struttura che sono in alluminio il cablaggio come vedete contenuto all'interno di questa cinghia poi la scheda madre aggiornata con il tasto di arresto è un sensore di fiamma ovviamente il cablaggio per quanto riguarda il cavo usb la struttura sulla quale scorre il laser ovviamente un po di ferramenta un cilindro per poter mettere a fuoco gli occhiali di protezione ancora cablaggio l'alimentatore da 24 volte il laser si tratta di un laser da 20 watt più accessorio che ci consente di collegarlo alla struttura per sollevare ed abbassare il laser ed ecco il laser master 2 pro montato pronto per funzionare a un modulo laser da 20 watt con una versione aggiornata una scheda madre olm pro v10 di terza generazione che include anche un rilevatore di fiamma sulla parte interna all'altezza del tasto di emergenza al centro abbiamo questo rilevatore che riconosce la presenza di fiamma interrompendo l'incisione la stessa cosa accade grazie al sensore g integrato che rileva movimenti non regolari quindi eventualmente interrompe la stampa se dovesse muoversi eccessivamente riconoscendo che il laser non sta incidendo più nella zona nella quale deve incidere lo stesso per quanto riguarda il sensore di movimento infatti se il laser dovesse interrompere il suo movimento dovesse rimanere fermo nello stesso punto il rischio di fiamme sarebbe elevato quindi il suo sensore interromperebbe l'incisione evitando quindi fiamme anche se consigliano utilizzarlo in luoghi innifichi però come sappiamo nei nostri laboratori spesso c'è carta legno e quindi il rischio elevato inoltre come potete vedere questo è il sistema che permette il sollevamento e l'abbassamento del laser semplicemente agendo su questa rotella in questo modo posso regolare in modo micrometrico la regolazione del laser e agire sulla messa a fuoco che va fatta grazie a questo sistema con questo cilindro infatti in dotazione viene dato pure questo supporto stampato in 3d e ci permette di posizionare il cilindro sulla parte bassa ed abbassando finché tocca otterremo la distanza esatta per poter emettere a fuoco il laser quindi in questo modo potremo incidere avendo la distanza corretta con il laser che abbia la dimensione minima proiettata sulla superficie questo schermo protettivo riduce in parte anche la proiezione del laser e l'effetto dannoso ma vi ricordo di utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati a norma il cablaggio è tutto all'interno di questa guida e ci permette di avere tutto ordinato l'unico cavo e questo che comunque non va a intracciare sul lavoro è possibile incidere su pezzi che abbiano una dimensione di 46 x 50 cm ovviamente l'area di stampa è inferiore perché c'è lo spazio occupato dello stesso modulo laser che non ci permette di raggiungere le estremità sia per quanto riguarda la larghezza perché quando riguarda la profondità comunque stiamo parlando di una superficie di stampa davvero molto ampia mettiamolo alla prova facciamo alcune prove di incisione allora intanto voglio farvi vedere questi sono gli occhiali che vengono dati in dotazione sicuramente sono meglio di niente vi consiglio di utilizzare gli occhiali di buona qualità questi li ho comprati su internet hanno pure la marchiatura c'è sono degli occhiali specifici per essere utilizzati con gli incisori laser e riducono davvero tantissimo il danno che potrebbe fare un laser infatti io lo serverò attraverso il display del telefonino quindi mi raccomando proteggetevi bene non mettete mai le mani sotto e neanche cose infiammabili nei paraggi allora per poterlo accendere bisogna collegare l'alimentatore alla presa elettrica e va collegata da questa parte l'ingresso dell'alimentazione sul manuale di istruzione riportato che è del tutto normale la formazione di scintille però per ovviare a questo problema basta inserire prima lo spinotto sull'incisore dopodiché collegare la corrente elettrica poi va collegata la presa usb al computer e da lì tramite un programma che però oggi non approfondiremo perché voglio concentrarmi più che altro sulla qualità dell'incisore poi faremo magari un video oppure sul programma che ci permette di eseguire le incisioni acquisendo le immagini eccetera quindi adesso l'accendo va premuto prima per alcuni secondi il tasto reset che il tasto in alto e dopo di che il tasto power sempre per qualche secondo ok adesso è possibile utilizzarla quindi basta semplicemente spostare gli assi in modo da raggiungere il punto in cui abbiamo il pezzo da incidere ad esempio questo pezzo di mtf si mette sulla base dopo di ciò tramite questo cilindro possiamo regolare la messa a fuoco basta sollevare posizionare il cilindro sotto in modo da dare la stessa altezza del cilindro alla base del laser perfetto in questo modo ma perfettamente quindi adesso accendendo sarà a fuoco ok il rumore che avete sentito perché ho connesso il software all'incisore a questo punto posso acquisire un immagine che sia una foto una scritta eccetera e iniziare ad incidere questo laser ci permette come la maggior parte del laser di incidere stabilendo la potenza del raggio e la velocità di spostamento perché un raggio laser emesso ad una potenza elevata con una velocità elevata ci permette di avere un risultato paragonabile di un laser che emette una potenza bassa ma con dei movimenti lenti ovviamente poi dipende anche dalla superficie sulla quale dobbiamo incidere che ci sono superfici sulle quali se si sta molto tempo anche se il laser ha una potenza ridotta possono formarsi aloni di bruciatura eccetera quindi vanno fatte delle regolazioni che poi col tempo si acquisiscono che ci permettono di avere dei risultati eccellenti dei risultati che diano al laser nel tempo necessario di stare in un determinato punto senza scavare troppo e neanche rischiando di avere un incisione troppo leggera quindi ora facciamo una prova incidendo un immagine vediamo il risultato appunto su questo pezzo di mdf adesso ho aperto un'immagine tramite il programma laser gbrl è una fotografia che ho scattato io tempo fa alla valle templi di agrigento tramite il programma dobbiamo dare la misura non del piano di stampa ma la misura del pezzo che vogliamo stampare decideremo noi la posizione nella quale deve trovarsi il laser quindi verrà proiettato sulla base il perimetro della figura che dobbiamo stampare in forma geometrica quindi quadrato rettangolare e questo ci consentirà di posizionare il pezzo sul quale dobbiamo incidere in modo corretto quindi do l'avvio vi ricordo di utilizzare gli occhiali protettivi quindi abbiamo la profondità massima e lateralmente abbiamo questa posizione quindi posso ancora gestirlo allora ragazzi ho deciso di girare il pezzo perché è bianco quindi secondo me l'incisione si vedrà ancora meglio farà più il contrasto ho deciso di utilizzare una potenza del laser del 60 per cento quindi do l'ok e iniziamo l'incisione questa è la velocità in tempo reale è possibile anche stabilire la qualità dell'immagine oltre che l'intensità della potenza del laser perché ci dà la possibilità di decidere quanti passaggi deve fare il laser quante linee devono essere incise per ogni millimetro ovviamente più linee decidiamo di fare incidere per ogni millimetro maggiore sarà la qualità dell'immagine incisa il laser è dotato di una ventola da oltre a raffreddare la stessa laser allontano dei fumi impedisce pure la formazione di eventuali fiamme come vedete l'assenza dei cavi sparsi come accade solitamente su alcuni incisori laser si rende il lavoro più facile perché ci evita che il laser possa essere proiettato proprio su un cavo che può trovarsi posizionato nel punto sbagliato ok questo quindi è il pezzo abbiamo inciso come potete vedere l'immagine è stata incisa perfettamente però è un'immagine di bassa risoluzione perché l'ho salvata da facebook per ma per farvi capire comunque la qualità si vede abbastanza bene ok questa è la prova di incisione di un incranaggio adesso proviamo anche a tagliare ho impostato una potenza del 100 per cento e una velocità di spostamento di 350 mm per minuto ok quindi incisione completata come vedete è andata di incidere anche sul pezzo mattina quindi in realtà sarebbe stato possibile fare anche qualche passata e meno questo è l'ingranaggio che sono riuscito ad ottenere è impiegato circa 12 minuti per fare però cinque passate forse uno e meno sarebbe riuscito a eseguirlo lo stesso adesso proverò a incidere su questo pezzettino di plastica plexiglass nero che viene dato in dotazione inciderò il mio luogo abbiamo solamente 23 mm come superficie di stampa compostato una potenza del 50 per cento ed una velocità di 350 mm dovrebbe essere abbastanza veloce vediamo che il risultato riusciamo ad ottenere su questa plastica vediamo se riesce ad inciderla correttamente quello che state vedendo è il tutto in tempo reale ok è impiegato davvero pochissimi secondi e logo è venuto meravigliosamente bene ragazzi una messa a fuoco eccezionale grazie al cilindretto guardate che risultato che ho ottenuto in 23 mm stupendo è possibile utilizzare se preferiamo fare una messa a fuoco manuale anche questo pezzettino di alluminio sottilissimo di colore nero nel quale proiettare il laser e regolare quindi in modo che sia il più sottile possibile con il cilindretto che viene dato in dotazione sicuramente siamo molto più veloci ok proviamo ora pure su un pezzo di pelle una vecchia cintura sarà un paio di millimetri di spessore con una potenza del 60 per cento ed una velocità del 50 per cento ok è impiegato davvero pochissimo tempo e guardate che risultato ragazzi praticamente un risultato che oserei definire quasi professionale davvero riuscito perfettamente un incisione che a me piace tantissimo anche nei dettagli più piccoli veramente veramente fatta bene adesso avvierò un incisione solamente per farvi vedere come si blocca tramite fungo di emergenza come avete visto si blocca si spegne pure la ventola quindi interrompe completamente la stampa sul computer appare l'avviso che comunque è stato rilevato un problema con la scheda quindi sarà necessario riavviare il tutto e facciamo quindi una panoramica delle incisioni che ottenuto tra quelle che avete visto oggi è quella che ho fatto ieri per prova questo è il mio logo soli 23 mm di incisione ha rispettato perfettamente tutto una definizione davvero molto molto elevata l'ingranaggio poi la foto basta risoluzione però il risultato a me piace tanto e poi l'incisione sulla pelle anche in questo caso ragazzi una definizione ed una qualità per me sbalorditiva abbiamo fatto l'ingranaggio semplicemente inciso è venuto abbastanza bene un'immagine vettorializzata questa invece è una fotografia che ho inciso con un metodo particolare aumentando il contrasto aumentando i bianchi aumentando il nero e dando molta profondità nell'incisione questo è il logo del poligono anche questo realizzato con un incisione abbastanza aggressiva sulla parte opposta invece un incisione sempre del luogo molto più leggera dove si vede l'incisione linea per linea ragazzi io ho finito con questo video su questa incisione laser della orto master 2 pro come abbiamo visto un incisore abbastanza completo con un fungo di emergenza rilevatore di incendio ma soprattutto con una struttura di buona qualità che ci permette di ottenere delle incisioni che io sinceramente non mi aspettavo guardate per esempio questa foto che per me è venuta bene considerando che è presa da una foto bassa risoluzione e nella quale ho giocato con contrasti e livello di bianco eccetera a proposito di livello di bianco sono riuscito a ottenere facendo delle prove di incisione aumentando il bianco aumentando anche il nero aumentando la potenza dell'incisione questa sorta di incisione rilievo in cui si vede la sagoma mia e di mio figlio a rilievo si può toccare sporcherà un paio di millimetri e questo gradino tutto attorno perché ha bruciato il legno poi l'ho rimosso con una spazzola e legno non bruciato era la parte bianca quindi tutto ciò che era nero è venuto inciso in profondità e il resto invece è rimasto così a rilevo e mi piace come risultato e questo è il poligono nobele dove avete visto ogni tanto fare qualche video cosa dire ragazzi io vi lascerò tutti i link giù con tutte le informazioni per poterla acquistare poter vedere le caratteristiche tecniche eccetera non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto lo avete ritenuto utile iscrivetevi a cliccate anche sulla campanella oggi per attivare le notifiche e ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo è presto